Genere alimentari, denaro e promesse di posti di lavoro in cambio di voti. Tornano a far parlare le elezioni comunali del giugno 2018 a Torre del Greco. Un'indagine che già aveva condotto all'arresto di diversi soggetti facenti parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla compravendita di voti in favore del candidato consigliere comunale Stefano Abilitato, poi risultato eletto, in relazione alla quale sono già intervenute alcune sentenze di condanna. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito una nuova ordinanza emessa dal GIP di Torre Annunziata nei confronti di cinque soggetti, tra i quali un consigliere comunale, tutti gravemente indiziati del reato di associazione a delinquere mediante la sistematica compravendita di voti in occasione delle amministrative di tre anni fa nel comune Corallino. Le indagini, infatti, hanno consentito di accertare l'esistenza e l'operatività di un'organizzazione criminale finalizzata alla compravendita di voti in favore del candidato Mario Buono, successivamente eletto, e della relativa lista civica Forza Torre, da un numero indeterminato di elettori in cambio di genere alimentari e d'azioni di denaro, ovvero di offerte e promesse di posti di lavoro, nell'ambito dei progetti regionali denominati Garanzia Giovani e Fila. Anche in questo caso, così come accertato per la precedente ordinanza cautelare, un ruolo centrale è risultato essere stato ricoperto dal commercialista Simone Magliacano, che, come emerso dalle indagini, era in grado di creare diverse reti di complicità e collusioni per la compravendita dei voti. Tra i destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari, oltre a Magliacano e al consigliere comunale Buono ci sono Genaro Savastano e Vincenzo Itzo, che secondo quanto ricostruito dalle indagini, si sarebbero occupati della compravendita dei voti, con offerte di denaro e genere alimentari ai cittadini torresi. Itzo, durante la stessa campagna elettorale del 2018, si è inoltre reso protagonista di un'aggressione ai danni di abilitato, al fine di impedirgli il libero esercizio dei diritti politici e, in particolare, per ostacolarne l'attività di campagna elettorale in uno dei quartieri di Torre del Greco, vicenda per la quale è in corso di celebrazione un processo al Tribunale di Torre Annunziata, nel quale Itzo è imputato. La misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Torre del Greco è stata emessa nei confronti di Gianluca Melluso, anche egli incaricato della compravendita dei voti.